È una scuola in cui si è data maggiore importanza ai temi del rispetto reciproco e dell'ambiente, all'integrazione interculturale e all'educazione della cittadinanza. Dovrebbe essere un luogo senza distinzione riguardo all'etnia. Dovrebbe essere una scuola che dia il benvenuto a tutti. Vorrei una scuola dove ci si comporti come una squadra e quindi senza rivalità e prevaricazioni. Senza bullismo. Invece è un luogo dove spesso indossiamo delle maschere per poi il giudizio degli altri. Fare, non lo so, lavori di gruppo. O collaboratori con i miei compagni. Vorrei una scuola in cui ci sono dei lavori di gruppo da fare anche con persone con cui non siamo molto legati. Questo aiuterebbe molto i ragazzi che hanno un carattere timido ad aprirsi, a dialogare con persone nuove. È una scuola dove si è tutti accolti, aiutati ed accettati, come alla fine una grande famiglia, perché secondo me la scuola è un po' la nostra seconda famiglia.